Un incendio di vampato nella mattinata di giovedì 25 marzo intorno alle 9 in via Brezzi a Castellamonte. Le fiamme scaturite da una canna fumaria hanno avvolto il tetto di una villetta. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, la piattaforma, la polizia locale e il vice sindaco Todoro Medaglia. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme prima che potessero avvolgere tutto il tetto. Quindi hanno proceduto con la messa in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.